Il processo di riorganizzazione territoriale avviato con la scelta del popolo gelese di lasciare Caltanissetta e di aderire all'area metropolitana di Catania deve necessariamente svilupparsi anche su un altro binario, lo sostiene il comitato Gelensis Populus. Governo e Parlamento hanno allo studio una profonda riforma delle circoscrizioni giudiziarie e, secondo l'ultima relazione della Commissione Ministeriale che se ne sta occupando, attentamente approfondita, si propongono di chiudere tutte le piccole corti di appello e di rivedere sia il numero che i confini dei tribunali. Gela e del suo tribunale saranno interessati da questa riforma. Non è allora opportuno che anche in materia giudiziaria si prenda atto del nuovo assetto territoriale che vede Gela collocata nel contesto catanese? Che senso ha rimanere con la corte d'appello di Caltanissetta interrogativi che si pone il comitato? Sarebbe opportuno, ribadisco le componenti, iniziare a programmare e a lavorare ad una rimodulazione e ad un allargamento dei confini territoriali del Tribunale di Gela alla luce dei nuovi assetti amministrativi anche di altre città vicine, ma soprattutto nell'ambito del distretto di corte d'appello di Catania che rimarrà senz'altro come una delle più prestigiose, importanti e dinamiche di tutta Italia, così come la sua facoltà di giurisprudenza. Il comitato Gelensis Populus, nonostante le difficoltà dei rappresentanti delle categorie professionali più interessate che si è finora riscontrata, si adopererà per avviare i più opportuni contatti con le rappresentanze politiche e professionali delle comunità interessate affinché si studi, si proponga e si realizzi un nuovo e più razionale assetto delle istituzioni giudiziarie del territorio che gravita sulla città di Gela. Il comitato fa appello a tutte quelle rappresentanze affinché abbandonino le posizioni volte alla conservazione della situazione esistente che verrà comunque stravolta dalla prossima riforma legislativa e contribuiscano invece a promuovere un nuovo assetto che risulti più funzionale, oltre che coerente con le scelte di recente fatte dalla popolazione gelese.